Ciao, sono Tommaso dei Perturbazione, nella mia Torino, collaboro alla giuria di questo concorso che si chiama Un Cuore Rap, farò parte della giuria che giudicherà i vostri lavori che potete mandare fino al 26 aprile delle canzoni. Di base si tratta di scrivere un pezzo, lo dice la parola stessa Un Cuore Rap, le parole da utilizzare per questo stesso lavoro creativo, credeteci io lavoro con i testi e quindi so di cosa sto parlando, dovete utilizzare alcune parole che hanno a che fare con la partita del cuore, con il concetto di beneficenza e di solidarietà. Declinate la vostra modo, andate a cercare il regolamento e come partecipare sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, ricordo ancora una volta Un Cuore Rap, 26 aprile è la scadenza, ci vediamo il 30 maggio alla partita del cuore allo Juventus Stadium. Ciao!